Project Nerd a Comics Populi 2016, siamo in compagnia, io non ci sono ma ci sono in realtà, siamo in compagnia dei fratelli Leoni. Chi è chi? Cosa fanno? E cosa ci presentano oggi? Newborn Alpha. Passo la parola a loro, una alla volta. Allora, grazie innanzitutto di questa occasione. Noi siamo i fratelli Leoni, Andrea e Matteo Leoni. Oggi qui al Comics Populi presentiamo un fumetto indipendente, proprio qui dalla zona di Forlì, noi abitiamo a Forlì. Il nostro è un fumetto noir ed è stato un po' un'avventura, noi siamo appunto fratelli, lo facciamo in casa. Questo è il nostro primo volume ed è una storia autoconclusiva. È autoprodotto, vuoi parlare un po' del nostro? Sì, allora, intanto lui è Andrea e scrive, è lo sceneggiatore di Newborn, io sono il disegnatore, lo facciamo tutti e due così, per passione. Lui ha scritto questa storia e voleva trovare un modo di renderla fruibile, abbiamo pensato perché non facciamo un fumetto e abbiamo cominciato a lavorare. È autoprodotto, diceva appunto una storia noir, però con elementi sovranaturali, ambientato in tempi moderni, 2011 a New York. è la storia di questi cinque tirapiedi, diciamo scagnozzi, di un'associazione fumosa, un po' misteriosa, che si chiama Il Direttorio. E niente, è investigativo, succedono cose ben più grandi di loro. Sì, si trovano invischiati in una vicenda più grande di loro. C'è questo ragazzino, che vediamo in copertina qui, che è un ragazzino invece normale, loro sono un pochino speciali, sono newborn, nuovi nati. Il ragazzino invece è un essere umano vero e proprio, e si trova invischiato in questa storia e succede un patatrack, come si dice qui in zona, noi siamo romagnali. Sì, abbiamo fatto questa storia, è una storia autoconclusiva, in realtà sarà divisa in newborn alfa e omega, quindi questi sono i primi tre capitoli di cinque, l'anno prossimo dovremo portare gli ultimi due. e in realtà noi avremo storie anche per farne una serie vera e propria, oltre a questa storia che stiamo realizzando adesso. La speranza è che qualcuno possa piacere, interessare e che si possa continuare. Esatto. E basta. Siete stati esaustivi, praticamente tutte le domande che volevo farvi le avete. Siamo in modalità fiera noi, siamo in modalità fiera purtroppo. Allora, una cosa riguardo lo stile di newborn, in bianco e nero, con elementi a colori per quanto riguarda le parti soprannaturali. C'è stata, parlo con il disegnatore in questo caso, c'è stata un'ispirazione particolare, un fumetto, un'opera, un'artista in particolare che ti ha dato il via per questo stile? Ok, sì, ovviamente la prima cosa che viene in mente è Frank Miller, con i suoi Sin City, è chiaro che è una fortissima fonte di ispirazione. In generale io adoro molto il bianco e nero netto, in realtà qui abbiamo deciso a un certo punto di inserire anche in grigio. Sono comunque colori netti in generale, sì, io mi ispiro principalmente a tanti disegnatori che masticano il bianco e nero principalmente, quindi da Mignola al Nostrano, bravissimo, giovanissimo, Arturo Lauria, insomma, io ho sempre letto fumetti e mi piacciono tanto i fumetti, quindi prendo tutto quello che mi piace e cerco di riprodurlo e di rifarlo mio. Per quanto riguarda il discorso autoproduzione, allora in Italia probabilmente ci saranno un sacco di ragazzi, di persone che vorrebbero produrre qualcosa, lanciarsi nel mercato, soprattutto fumettistico. La vostra difficoltà e la vostra miglior soddisfazione nel lavorare in autoproduzione in questo momento? Allora, l'autoproduzione è sempre una scelta coraggiosa. In effetti è diverso dall'essere seguiti da un editore. Noi facciamo tutto in casa e non abbiamo neanche la pretesa di sentirci professionisti. La difficoltà più grande è certamente che nessuno corregge il tuo lavoro e devi sempre cercare di fare il meglio possibile senza avere un riscontro diretto se non con chi compra il fumetto. La più grande soddisfazione è incontrare proprio le persone qui in fiera e quando piace a qualcuno è veramente tutto farina nel tuo sacco ed è una grandissima soddisfazione. Parlando invece delle cose più fastidiose, quando si autoproduce un fumetto ovviamente bisogna anche avere un pochino idea di come funziona venderlo nel caso. Senz'altro è difficile infilarsi in un discorso di tasse e cose così, però si può fare. Ovviamente parliamo non di enormi guadagni, si tratta di spendere tanto per la passione di farlo. Però può essere un modo perché così si presenta un volume che poi si può portare anche a editori indipendenti e quindi la speranza è quella di riuscire a trovare un editore a cui possa interessare il nostro progetto e trasformarlo in un qualcosa di professionale, veramente. Ultima domanda, dove vi possono trovare le persone che vedono questa intervista? Perché ovviamente Comics Populi sarà finita nel momento in cui apparirà questa intervista, quindi come ho fatto a perdermelo e dove voglio reperirlo? Allora, noi abbiamo diverse pagine dove trovarlo, che tra l'altro abbiamo messo in fondo al volume, spero che si riescano a leggere. Abbiamo il nostro sito personale del fumetto che è www.newborncomic.com Abbiamo anche la nostra pagina di Facebook che è facebook.com.com Abbiamo una mail a cui ci potete scrivere che è info.newborncomic.com In tutti questi indirizzi potete ritrovare alcune tavole del fumetto, gli aggiornamenti su quello che stiamo facendo, quello che ci capita in quel momento e insomma questi sono i nostri contatti. Altrimenti Matteo, che è un disegnatore, ha la sua pagina privata. Sì, è una pagina personale che si chiama Cercate Male, Matteo Leoni Art, qualcosa del genere e salto fuori. Ma se passate dalla pagina di Newborn mi trovate più facilmente. Comunque sì, esatto, questi sono i nostri contatti, lì trovate tutte informazioni sui personaggi, su tutto, tutto quello che ci riguarda. Grazie mille ai fratelli Leoni, che se non si è capito sono fratelli, l'abbiamo detto dieci volte ma adesso si è capito. Grazie mille. Grazie a voi.